Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Vedremo il sequestro da parte dei carabinieri dell'azienda USL di un allevamento a Ostellato in cui decine di capi erano trattati in maniera indecorosa, è stato detto, e anche il livello di igiene era molto basso. Poi parleremo però anche di diverse novità che riguardano la nostra città, tra le quali anche la situazione coronavirus che sta registrando un aumento dei contagi nelle ultime ore, ma anche novità riguardanti l'agricoltura. Ma apriamo parlando di viabilità dei cantieri che stanno interessando soprattutto la superstrada e creando diversi disagi, soprattutto nel fine settimana, nuove rotonde lungo la Romea poi sono previste nei prossimi mesi e soprattutto è arrivata anche la conferma che i cantieri sulla superstrada dovrebbero fare una pausa, mettersi in pausa per luglio e agosto. Sono questi i contenuti dell'informativa sulle questioni ANAS espresse in Consiglio Provinciale dal Presidente della provincia Gianni Michele Padovani. Due tra gli assi viari più importanti e trafficati del Ferrarese, la superstrada e la Romea al centro del dibattito politico. Il motivo è i cantieri che soprattutto sulla Ferrara Mare fino ad oggi hanno creato diversi disagi, soprattutto nel fine settimana. Come chiesto dei consiglieri di minoranza riuniti in conferenza stampa lo scorso 7 giugno in Castello Estense, più diversi sindaci, il Presidente della provincia Gianni Michele Padovani ha informato il Consiglio Provinciale sull'interlocuzione avuta con ANAS Bologna. Informazioni chieste in primo luogo sulla Ferrara Mare, sullo stato del rissanamento del corpo stradale e del consolidamento delle scarpate, lavori che non possono essere svolti in orario notturno né facendo ricorso a cantieri rimovibili i quali necessitano di condizioni climatiche e meteo favorevoli. Questo riporta la nota la quale conferma lo stop dei cantieri nei mesi di luglio-agosto. Altro capitolo, la Romea, sulla quale dovrebbero essere realizzate sei rotatorie che interessano i territori di Comacchio, Codigoro e Mesola. Ritardi nell'avvio dei cantieri, tabella di marcia che ha dovuto subire uno slittamento a causa degli incari dei carburanti e dei materiali da costruzione, rifatte le procedure di gara per adeguare costi e prezzi. Maltrattamento di animali, i carabinieri sequestrano un greggio. È successo a martedì quando i carabinieri insieme al servizio veterinario dell'azienda OSL di Ferrara hanno controllato un allevamento di caprini e ovini a Ostellato. Qui, secondo i militari, diversi capi di animali, 53 capre e 6 pecore, erano in cattivo stato di salute, malnutriti e poco curati. Emessa un'ordinanza di sequestro sanitario del sindaco di Ostellato e il bestiame è stato così sottratto alla gestione di due fratelli di origine marocchina di 40 e 38 anni. Le autorità sanitarie ora effettueranno tutti gli accertamenti del caso al fine di verificare l'effettivo stato di salute degli animali e le procedure di cura e custodia. E parliamo adesso del problema della siccità. La Regione Emilia-Romagna ieri ha presentato al Governo la richiesta dello Stato di emergenza nazionale. La richiesta ufficiale è stata inviata in mattinata ieri dal Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. E al capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, nel distretto del Po, le portate sono ancora molto basse. L'acqua salata in ingresso nel fiume, ovvero il cuneo salino, che tanti problemi provoca, soprattutto all'agricoltura. È una quota record, oltre 30 km, una misura mai vista. La pioggia di martedì e delle ore successive non ha risolto molto, ha alleviato un po' la situazione, ma secondo Meuccio Berselli, segretario generale dell'autorità del fiume Po, si attendono tempi migliori. Queste precipitazioni sono state molto importanti perché ci consentono di saltare un turno di irrigazione. In realtà abbiamo solo spostato il problema di 10 giorni, perché se avessimo ridotto correttamente, come avevamo previsto, i prelievi nei giorni scorsi, oggi avremmo un bacino del Po in minore sofferenza e soprattutto la portata nel Delta sarebbe maggiore. Parliamo troppo, parliamo in troppi e secondo me facciamo troppo poco. Comunque il beneficio c'è stato, abbiamo bisogno di evitare i danni irreversibili nel Delta, la pioggia è caduta sopra i 50 mm nella zona piemontese, questo ha consentito di avere un riempimento nei grandi laghi regolati, il lago maggiore è tornato sopra allo zero idrometrico, questo ci consente di centellinare, di disporre un po' di acqua per i giorni prossimi che verrà e sarà utilizzata, deve essere utilizzata benissimo per evitare quello che è successo nei giorni scorsi. E la crisi economica determinata dalla guerra in Ucraina minaccia anche il settore della meccanica agricola e rischia di frenare un mercato in fase di espansione. E' stato questo uno dei temi al centro dell'assemblea annuale di Federuna Coma che si è tenuto martedì a Varignana in provincia di Bologna di cui si parla nella nuova puntata di Con i piedi per terra oggi in onda e in questi giorni su Telestense e disponibile anche on demand su Youtube, ma ne vediamo un estratto insieme. Abbiamo voluto fare per i nostri associati in generale e per il nostro mondo un po' un'analisi di scenario di questa situazione che è molto preoccupante della guerra russo-ucraina con Dario Fabri e uno sguardo un po' quello che sarà la prossimo futuro dell'economia italiana in particolare ma europea in generale con da una parte Carlo Cottarelli, professor Carlo Cottarelli e dall'altra un nostro amico da anni che è l'onorevole Paolo De Castro che ripeto è stato uno dei migliori ministri dell'agricoltura che ha avuto negli ultimi anni e speriamo che anche l'Europa continua a farsi valere non solo lui come persona ma soprattutto difende i nostri colori. Dottor Cottarelli, un'assemblea, un momento per fare il punto sulla situazione economica quello che sta succedendo in post-pandemia e soprattutto la guerra che si sta tenendo alle porte dell'Europa? Sì, è una situazione come al solito complicata io credo che si possa evitare un'altra recessione quest'anno dopo quelle passate non sarà un anno spettacolare però secondo me si può evitare ci sono alcune incertezze, una legata a quello che succede ovviamente se c'è un deterioramento, un escalation militare oppure delle sanzioni diventa ancora più complicata oppure c'è la questione altra o grossa incertezza riguardo i tassi di interesse l'inflazione, aumento dei tassi di interesse da parte della BCE l'impatto che questo può avere sugli spread e sul settore finanziario. Edizione 2022 di EIMA International con tantissime novità presentazione anche di alcuni aspetti innovativi oggi qua. Oggi qui abbiamo presentato un ulteriore aggiornamento del cantiere EIMA 2022 in occasione della nostra Assemblea Generale Federuna Coma dove abbiamo trattato tanti temi importanti tracciando il trend anche del nostro settore industriale che parla anche di un evento promozionale estremamente importante internazionale come quello di EIMA International che avremo a novembre e tante le novità e anche estremamente importanti numeri ad oggi 1.400 imprese che hanno già formalizzato la domanda di adessione 460 estere quindi il numero delle imprese estere torna a crescere a dimostrazione che la piazza internazionale di EIMA è sicuramente molto importante. Dobbiamo parlare però adesso di coronavirus siamo in attesa dei dati odierni ma se guardiamo l'ultimo bollettino quello emesso ieri si è registrato un aumento importante di nuovi contagi nel ferrarese. Sentiamo. 638 nuovi positivi, 286 nuovi guariti e un decesso, una centese di 63 anni è quanto emerge dall'ultimo bollettino Covid in cui sono 41 i posti occupati a Cona 15 al Delta e 9 a 100 in Emilia Romagna si sono registrati oltre 6.700 nuovi positivi e sono 7 i decessi a livello regionale cresce leggermente la pressione sugli ospedali emiliano e romagnoli. Novità importante al centro commerciale il castello di Ferrara è quella presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa in gallerie, i negozi e il supermercato più tutte le attività saranno servite fra qualche mese dal teleriscaldamento la tecnologia che collega buona parte della città e utilizza anche la geotermia sgasiamoci il titolo del progetto presentato una discussione e un argomento molto attuali visto il periodo storico che stiamo vivendo ma sentiamo le motivazioni che hanno portato a questo risultato in queste interviste. La rete cittadina del teleriscaldamento dopo aver percorso l'asse di via Bologna ha già abbracciato a fine 2021 il comparto delle corti di Medoro proseguirà lungo il suo percorso nei prossimi mesi per allacciare appunto anche il centro commerciale il castello e proseguire ulteriormente verso gli ulteriori clienti che hanno manifestato interesse sarà possibile per la città vedere estendersi gli ulteriori, ulteriormente quelli che sono i vantaggi ambientali di una tecnologia sicura e rispettosa dell'ambiente qual è il teleriscaldamento l'allaccio del centro commerciale il castello garantirà ogni anno 156 tonnellate equivalenti di petrolio in meno garantirà minori emissioni di CO2 per 650 tonnellate annue circa che è l'equivalente assorbito da circa 6.000 alberi garantirà inoltre oltre mezza tonnellata di NOx di NOx in meno in un solo numero quello che è l'abbattimento degli elementi nocivi in atmosfera rispetto ad una fonte energetica di riscaldamento tradizionale si misura e è superiore all'80% abbiamo iniziato a parlare del teleriscaldamento al castello nel 2019 oggi finalmente abbiamo già nell'area esterna del parcheggio i primi scavi con il primo posizionamento di tubazione quindi per noi è un grandissimo risultato il centro commerciale Castello a Ferrara è un punto di aggregazione molto importante e vogliamo comunicare alla comunità questo grandissimo passo in avanti verso la transizione ecologica ed energetica che il centro commerciale vuole fare e che tutto il mondo dovrà fare nei prossimi anni il centro commerciale ha sviluppato anche un'importante campagna di comunicazione fresca, frizzante, giovane, sgasiamoci, meno gas più geo per coinvolgere anche la cittadinanza con delle attività che andremo a sviluppare nei prossimi mesi si guarda al futuro con una realtà come questa che rappresenta sicuramente un banco di prova per un obiettivo ambizioso per una società come la nostra che è proprietaria di 24 centri commerciali in Europa 8 in Italia e un unico obiettivo di essere carbon neutral entro il 2030 dunque il passaggio a teleriscaldamento è sicuramente un passaggio importante e significativo per quel nostro obiettivo in una realtà sicuramente quella del territorio di Ferrara per noi è molto importante come del resto lo sono le comunità locali guardare appunto al risultato, alla risorsa centro commerciale per il territorio oltre che centro commerciale nel territorio per noi questo intervento di allacciamento alla geotermia quindi al teleriscaldamento è molto importante perché è un esempio che vogliamo dare alla città si parla sempre di transizione ecologica di fatto questo è un esempio di passaggio dall'uso dall'utilizzo delle fonti tradizionali a fonti che sono invece rinnovabili quindi noi riteniamo che questo sia un elemento di esempio per la città Economia adesso, Camera di Commercio per l'osservatorio nei primi tre mesi di quest'anno gli indicatori congiunturali sarebbero in rallentamento pesano gli effetti della crisi energetica le crescenti tensioni geopolitiche e la mancanza di materie prime Nel primo trimestre del 2022 la produzione manifatturiera è al più 4,6% il fatturato al più 8,9% nelle costruzioni il volume d'affari cresce del più 4,5% nel commercio le vendite aumentano del più 2% le esportazioni in valore registrano ancora una crescita due cifre nelle previsioni il valore aggiunto provinciale però ridurrà la crescita dal 5,3% al 2,4% è quanto emerso nella riunione dell'osservatorio dell'economia della Camera di Commercio che si è tenuta mercoledì mattina alla presenza delle istituzioni dei vertici delle associazioni di categorie di Guido Caselli direttore del centro studio di Union Camere Emilia Romagna sono i nostri giovani a pagare in misura maggiore il prezzo della crisi ha detto Paolo Govoni commissario straordinario della Camera di Commercio allo storico deficit di occupazione femminile si sovrappone così una grave difficoltà all'ingresso delle giovani generazioni nel mercato del lavoro ha poi puntualizzato il commissario e neanche la tanto attesa pioggia di martedì scorso caduta nel tardo pomeriggio ha fermato la penultima giornata della Sagra dell'Aracchide e del Popcorn all'interno della Sagra a mezzo d'oro che ha chiuso ieri sera c'è stata anche la presentazione del nuovo libro di Nunzio Primavera Giove Ionico storie tra sismi e amori edito da Pendragon l'evento in cui è intervenuto anche Giorgio Grenzi presidente senior con diretti per sempre Italia è al centro della nuova puntata di Campagna Mica News che è andata in onda ieri sera andrà in onda anche nei prossimi giorni la trovate la puntata on demand su YouTube ma ne vediamo un estratto insieme un progetto di filiera diciamo il nostro fiore l'occhiello in questa fase perché è una delle prime filiere che diciamo si è sviluppata proprio a Ferrara ha le radici storiche diciamo in questo paese proprio Mezzogoro quindi però voglio concentrare il mio ragionamento sul fatto di questa presentazione di questo libro perché è un momento che collega il passato al futuro cioè il Club 3P che menzionava poc'anzi Nunzio Primavera il fatto di fare col diretti in quella fase in quel momento storico oggi con Oscar Green un momento importante e dove andiamo a relazionare a presentare quelle aziende leader che saranno il futuro della nostra storia ma oltre alla nostra storia sono quelle aziende che daranno quel giusto impulso a questa nuova agricoltura che evolve giorno per giorno grande è successo la Sagra di Mezzogoro impreziosita anche dalla presentazione del libro di Nunzio Primavera che è la prima presentazione in Italia che fa del suo nuovo libro sì, 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 impreziosita direi dalla presentazione del libro ma anche da Nunzio Primavera perché è un pozzo di conoscenza della storia, della religione della nostra storia di col diretti e siamo orgogliosi che insomma qui a Ferrara sia stata la prima presentazione di questo ultimo libro Giove Ionico dove chiaramente nel racconto che ti accattivante ti prende molto ci sono dei passaggi che riguardano anche veramente la storia di col diretti e direi anche i fatti che oggi sono assolutamente confacenti con quella che insomma sono anche i problemi sono le risoluzioni e quindi è stata una tavola rotonda dove abbiamo scambiato a livello anche di idee quello che generazioni e generazioni hanno portato avanti questo libro rappresenta un viaggio nella storia dell'agricoltura italiana e anche della storia italiana certo, dall'inizio del Novecento ai giorni nostri c'è un po' il racconto dell'evoluzione attraverso le vicende di una famiglia la famiglia d'Asaro e c'è un po' il racconto di come la famiglia coltivatrice si è evoluta dagli inizi del Novecento a oggi c'è il racconto della nascita del Movimento Giovanile della Coldiretti c'è il racconto della riforma agraria quello che ha significato per dei piccoli mezzatri piccoli contadini senza terra che attraverso la riforma agraria riescono ad avere finalmente terra in propria proprietà in possesso da poter coltivare e questo è uno dei grandi risultati della riforma agraria che la Coldiretti riesce a portare nel 1950 a compimento con la più grande redistribuzione di ricchezza che ci sia mai stata dall'Unità d'Italia parliamo di 3.600.000 ettari e 1.200.000 coltivatori diretti e qui in questa terra siamo proprio potremmo dire nel centro della grande riforma agraria perché ha consentito innanzitutto attraverso le bonifiche di rubare terra alla palude e farla diventare terra fertile terra che i giovani soprattutto hanno potuto coltivare e la regione Emilia Romagna ha allargato il progetto Sentire l'inglese è un progetto che prevede l'insegnamento dell'inglese ai bambini da 0 a 6 anni all'interno di nidi e scuole di infanzia è un'iniziativa unica in Italia è stato detto nel corso della conferenza di ieri in Viale Aldo Moro a Bologna sentiamo le interviste siamo partiti il scorso gennaio con 75 nidi da Piacenza a Rimini due per distretto quadruplicheranno già a settembre dopo meno di un anno ma il nostro obiettivo dichiarato e lo realizzeremo è in pochi anni tutti i nidi e le materne di questa regione quindi dagli 0 ai 3 ai 6 anni avranno l'introduzione della lingua inglese perché noi vogliamo che i nostri bimbi quando entreranno un domani nel mercato del lavoro della ricerca abbiano uno strumento in più non un in meno e conoscere una lingua straniera al pari o quasi di quella madre credo che sarà uno strumento indispensabile sempre più in futuro più che raddoppia quadruplica addirittura perché siamo partiti da 75 nidi in tutta la regione il primo anno e questa volta saranno 304 quindi quadruplica il progetto e quadruplicano le bambine e i bambini a cui sarà possibile apprendere le sonorità della lingua inglese in armonia come sta accadendo con le altre lingue madre che parlano nelle loro case questo è quindi un progetto che sta avendo dei risultati ben oltre le nostre aspettative iniziali perché da un lato è stato accolto con grande entusiasmo dalle bambini e dai bambini che chiamano a gran voce questi personaggi di pezza che introducono attraverso il lavoro preziosissimo di educatrici e educatori il momento in cui si dedicano all'ascolto della lingua inglese nell'entusiasmo delle educatrici e degli educatori stessi perché stanno aumentando il loro patrimonio di consapevolezza competenza e naturalmente anche valorizzazione della conoscenza delle lingue dall'altro punto di vista è un progetto che sta incontrando l'entusiasmo delle famiglie questa è la vera sorpresa abbiamo scoperto che proprio nel coinvolgimento delle famiglie per costruire insieme materiali per inserire e dare dignità anche alla lingua madre che deve essere un punto di forza e non un limite da questo punto di vista le famiglie stanno in questo modo incontrandosi e creando uno spazio di dialogo e sinergia che fa inclusione sociale ecco questa è la vera sorpresa di questa progettualità e con questo è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata grazie a tutti